Hola! Hola hola hola! Io direi di partire con i prodotti finish, la nostra solita bustona Ho finito questo che amo, devo andare a ricomprare perché effettivamente non ho più uno shampoo Ed è l'ultra dolce alla mandorla dolce e fiori di loto Lo adoro, mi piace un sacco, profuma tantissimo il capello Lo tiene pulito a lungo Mi sono innamorata Un buon inchi, davvero eccezionale Ho finito uno solvente molto scravosissimo di Sissi È a base di acetone, quindi vi lascio tutto dire Ho finito questo doccia schiuma neutro all'olio di argan biologico Della Mantovani Non mi è dispiaciuto Il profumo mi piaceva un sacco Molto 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 gradevole Ho finito giusto per fare nulla di che Questa qua ha una maschera viso, un campioncino Ho finito questo sapone della Vidal Tropical Sunset Vaniglia e lime Oddio, io di questo amavo la profumazione L'ho preso solo per quello perché costava 80 centesimi E non è che faccia, non rimane per nulla la profumazione Però quando sei sotto la doccia te lo metti Cioè, io mi piaceva tantissimo Ho finito dopo tre anni perché lo utilizzavo solo d'estate Questo flaconcione Di acquolina Che è l'acqua corpo allo zucchero a velo 150 ml L'ho terminata La Gaia, che è la mia migliore amica La odia profondamente perché è troppo dolce Io invece la amo profondamente perché amo i profumi dolci Ma dolci dolci da nauseare Quindi per me è stato un promossissimo Ho finito questo struccante Quest'acqua micellare di Licia 3 in 1 Mi ci sono trovata molto molto bene È un'ottima 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 acqua micellare Se la trovate io ve la consiglio Ho finito questo qua di Neutromed Magic Oil Con micro oli Un ottimo bagno schiuma Senza infami, senza lodi Mi ci sono trovata Sì Butto perché non la sopporto più Questa qua della My Skin Che tutti hanno lodato Ovviamente io mi ci trovo Malissimo, malissimo, malissimo Mi brucia la faccia Non so neanche più parlare Mi brucia la faccia In un modo indescrivibile Cioè non riesco a tenerla su Sapete che vuol dire La metto, la tolgo, la tolgo, la metto No Cioè non riesco a tenerla su Può essere Può avere l'inci più buono del mondo Ma a me fa schifo Non la ricomprerò E non la comprate Perché fa davvero pietà Ho finito questo shampoo Ips of Ocher Alla Alla Calendula Non lo ricomprerò Perché 4 euro questo shampoo Fa abbastanza pietà Mi sono innamorata di più Dell'ultra dolce Per esempio questa qua I fiori di loto Ho finito il mio amato Il mio amato 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 Vital Care Luxury Argan Che mi ha regalato mia zia Quindi sono dovuta andare Alla ricerca di un altro Olio per i capelli Ce l'ho già Lo amavo Mi rendevo i capelli morbidi In un modo esagerato Ovviamente Conteneva schifezzuole Perché il 5 pentaxiloxane È il primo posto E dimeticonol È il secondo Non so cosa sia Il dimeticonol Comunque Il terzo c'è dimeticone Che so che fa schifo Anche quello Però Però Me li rendeva morbidissimi Mi piaceva un sacco L'odore era anche buono Cioè È stato un trauma Finirlo per me Però davvero eccezionale Ho finito Che cos'è L'idealia slip Di Vichy Questa crema Che mi è stata Appunto Dasta da Vichy Mi è fatto schifo Non mi è piaciuta Per nulla Non ve la consiglio Cioè L'ho provata così Però non mi è fatto schifo Ho utilizzato Anch'io Fantasticamente Questi Demacup Non vedo la differenza Con dei semplici dischetti Dell'Iconado Dell'Eurospin Non lo so Non so cosa abbiano Di speciale Sì ok Hanno un po' la foderina Lì però Tutta sta Boh Babà Io ragazza Come sempre Sono molto spartana Vi dico proprio Le cose come stanno Ho finito il mio amato Che senza Questo mese d'aprile Morivo Con l'Irion È naturale All'aloe vera Lo adoravo Lo adoravo Unica pecca Era spray Quindi ora che Centrassi l'occhio Tipo ne avevo Ne avrò sprecato Sarà più il prodotto Che è andato fuori E che Quello che è andato Realmente nell'occhio Però comunque Questo effetto Lo faceva Quindi lo adoravo E poi ho finito Dos 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 Mascara Uno è la Love Extreme Questo qua Rosa Buono Buono Amici sono trovata Molto ma molto bene Ottimo Davvero molto buono Mi è piaciuto E l'altro È questo qua Di 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 Che cos'è False lashes Questo qua È il top coat Di Kiko Famosissimo Senza l'odi Senza i fami A me Nell'Ove Extreme Fa lo stesso effetto Ragazzi ho già finito Sì Ho finito Questi qui erano La 150 miliardi Di prodotti Che ho finito E Boh Niente Vi lascio Al prossimo video Che sarà il video Più lungo Di tutta la mia vita Un bacione Ciao Stitche Ciao